Buongiorno, ben trovati. Appuntamento di venerdì 7 luglio 2017 con Mattino 6, la nostra consueta quotidiana rassegna stampa. Partiamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani dei giornali abruzzesi Oggi Nedicola, oggi si ricorda il 7 luglio Papa Benedetto XI. Apriamo con le prime quattro pagine delle quattro edizioni del centro. Iniziamo dall'edizione di Pescara dove il titolo principale riguarda ovviamente quello che sta accadendo in Via Lago di Borgiano, nel quartiere Rancitelli di Pescara dove sono state sgomberate praticamente quasi per intero tre palazzine dichiarate inagibili, problemi di staticità per queste tre palazzine in seguito ai danni che sarebbero stati riportati nel terremoto dell'ottobre scorso. E scoppia la protesta degli sfollati con le famiglie di Rancitelli che lamentano sistemazioni non idonee. Il comune ha chiesto alla regione lo stato di emergenza e poi vedete la fotonotizia a centro pagina, meditate gente meditate, salvate ruzzola e freccette, il coni boccia, lo yoga, si parla in questo caso di sport, sport tra virgolette minori. Poi le cronache, sempre da Pescara e provincia, a Montesilvano in particolare la rabbia dei senegalesi, nessuno ci dà un aiuto, si parla dei problemi che stanno attraversando in questo caso gli extracomunitari, cittadini di origine africana di Via Riosto che erano stati sgomberati oltre un mese fa. E poi, spalla a nuoto, lo sport di Fulvio, il campione dell'Italia, dice e parla del suo sogno mondiale. Poi a San Giovanni Teatino, spaccata al Comprooro, ladri in fuga, in basso, l'omicidio della 26enne Jennifer Sterlecchini, voglio giustizia, parla la nonna della giovane, uccisa a coltellate dal fidanzato. E poi altre notizie, Fondovalle Sangro, aperte le buste in gara 11 imprese per i lavori su questa importante arteria della nostra regione. Poi il caso delle ombrelline di Sulmona, ieri pomeriggio a Pescara c'è stato un flash mob di protesta. Infine, un po' di gossip che non guasta mai, soprattutto in estate, perché tra Belen e Iannone tira aria di crisi, la coppia scoppia, così scrive il quotidiano Il Centro. Lasciamo la prima pagina di Pescara, siamo alla prima pagina del Centro, edizione dell'Aquila. Debutta la giunta targata a biondi, quattro donne nel governo cittadino, ecco la squadra a trazione Forza Italia. Poi Avezzano, il caso Cosimati ritarda, l'esecutivo del nuovo sindaco De Angelis. Poi Avezzano, tifoso morto, la Procura apre un'inchiesta, è sempre ad Avezzano, ladri di notte negli uffici del Tribunale. In questo caso sono in corso le indagini. In basso, vedete, spari in strada, ferito passante, è accaduto a scanno. Il pensionato è stato colpito da un fucile ad aria compressa, indagano i carabinieri. E poi sul Mona, fondi per Ovidio, esposto del Movimento 5 Stelle. Siamo alla prima pagina del Centro, edizione di Teramo, stalking impennata di denunce in aumento dopo l'omicidio dell'oncologa Ester Pasqualonia Santomero. Il questore dice e chiede massima attenzione. E poi Roseto, parcheggio a pagamento, avvio solo sul lato mare. E poi a Teramo, Malagò, saluta la Coppa Interiamnia, l'importante manifestazione che è iniziata nella città aprutina. E poi più controlli della polizia sulla costa, siamo sempre in provincia di Teramo, in questo caso ad Alba Adriatica. E poi più in basso si parla di sanità, salta il presidio di protesta per l'ospedale di Giulianova. Il Comune non autorizza il gazebo del comitato ed è polemica. E poi a Corropoli, bimbo di 10 anni, ferito da uno scooter in un incidente stradale. Siamo alla prima pagina di Chieti del Centro. Ateneo giallo sui documenti murati. Chieti scoperta contro parete con le carte del CUS. E la Cassazione reintegra il direttore generale del Vecchio. Poi le cronache, in questo caso dalla provincia di Chieti. A San Salvo stoppa la musica alle 2.30, la Movida perde mezz'ora. Ancora San Salvo sciopero fiscale dell'ipermercato contro i migranti. Mentre a Dottona sul deposito GPL il Comune annuncia che dirà no. Lo dice il neosindaco della cittadina ortonese, Leo Castiglione. In basso Castelfrentano, tre arresti per il pestaggio, botte con la mazza da baseball incastrati dalle telecamere. Poi cinghiali, danni in calo, abbattimenti in aumento. Siamo alla prima pagina dell'inseretto Abruzzo del Messaggero. Sfollati richiesta l'emergenza, lo ha fatto il Comune di Pescara alla Regione. E poi Università di Chieti, Cassazione riapre al direttore generale del Vecchio. E poi in alto la visita di Malagò nella nostra Regione parte dall'Abruzzo. La lunga corsa verso Tokyo 2020. E poi lo sport in alto, si parla del Pescara, dopo Gans si cerca un portiere, Egomis, il primo della lista. E poi Pescara, Jennifer Uccisa, il Comune parte civile. E vedete poi il caso Ombrelli con le immagini, la foto, in questo caso del flash mob, in piazza Muzzi. E siamo alla prima pagina del quotidiano La Città. Il grande dono di Esther Pasqualoni, hospice, la buona sanità, è poi esempio da valorizzare. Tornando all'omicidio di qualche settimana fa a Santomero, denunce per stalking in aumento dopo l'omicidio della dottoressa accoltellata a Santomero. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicola. Poi tra poco torneremo ovviamente a esaminare in maniera più approfondita con le pagine interne, i quotidiani della nostra regione. Ora possiamo andare a vedere, lo faremo tra qualche istante, invece i titoli dei quotidiani nazionali che troverete questa mattina in edicola. Ovviamente daremo uno sguardo a quelli che sono gli argomenti trattati sia di politica nazionale che internazionale e anche di cronaca. Partiamo dal Corriere della Sera, stop a nuovi porti per i migranti, questa è la decisione con l'Italia che dice reagiremo. E poi Trump parla durante la sua visita a Varsavia in Polonia e dice l'Occidente va difeso. E poi scontro nel PD sulle alleanze. Franceschini dice così, non si vince la stampa di Torino, la sfida di Trump a Putin, fermati. E poi le quattro sorelle, vedete questa foto centropagina, che controllano l'acqua. La stagione della grande siccità non aiuta, un sistema sempre più nelle mani delle aziende private, scrive il quotidiano. La stampa, la Repubblica, migranti, l'Italia è sempre più sola. E poi il fatto quotidiano, parte la congiura contro Renzi, Franceschini attacca il segretario, se perde pure in Sicilia. Lo cacciano. E poi il giornale tratta degli immigrati, le prove che affanno il Renzi e hanno svenduto l'Italia, scrive il quotidiano milanese. L'ex ministro Mauro, baratto con l'Unione Europea, tra flessibilità e sbarchi, dice l'esponente centrista. E poi, libero, eccellente idea di Berlusconi, Marchionne Premier, in un colloquio con libero Silvio Lancia, la candidatura nel 2018 del manager che si libererà del suo impegno con la casa automobilistica. E poi in basso, a centropagina, sotto la foto che vede uno accanto all'altro, Marchionne e Berlusconi, si parla del Partito Democratico perché Renzi vuol perdere, coccola gli immigrati. Scrive Libero, siamo al quotidiano la verità, gli accordi segreti di Renzi per riempirci di immigrati. E poi, basta un sospetto e ti sequestrano i beni, approvato il discusso codice antimafia che comprende reati contro la pubblica. Amministrazione, scrive il quotidiano la verità. E siamo al dubbio, l'avvocato Di Maroni, accusa Scafarto, falsificò gli sms del suo processo, scrive il quotidiano il dubbio. E poi la politica, la sfida di Renzi, gli usosoli, battaglia di civiltà, andiamo avanti, dice il segretario del Partito Democratico. Siamo al messaggero, porti chiusi, l'Italia non ci sta. E poi sciopero trasporti, la capitale bloccata dai mini sindacati. E poi, in alto, una notizia che riguarda lo sport, il ciclismo, il giro rosa che poche ore fa aveva fatto tappa nella nostra regione a Roseto. Ieri, tra l'altro, vi avevamo proposto un servizio in merito perché c'è il dramma di Claudia Cretti, grave dopo una caduta a 90 km orari in Campania. Andiamo avanti, il tempo, Marchionne per il centrodestra, parla Berlusconi, oggi ci vogliono persone così, tra poco gli scade il contratto, dice l'esponente di Forza Italia. Dunque quella di Marchionne potrebbe essere la candidatura giusta per il centrodestra in vista delle prossime elezioni. E poi avvenire, Charlie, ore decisive, pronto il trattamento, l'allarme della madre, stanno per staccare la spina, questa vicenda che continua a commuovere tutti, ma anche a far discutere. E poi, migranti, la solidarietà non va in porto in Europa, abbiamo visto come l'Italia chieda maggiore comprensione agli altri partner europei. Il secolo XIX, migranti, l'Unione Europea nega i porti, via al G20, Trump dice, presidente degli Stati Uniti, Mosca destabilizza il mondo. E poi, più in basso, la politica, anche sul secolo XIX, il quotidiano di Genoa, si parla della disputa interna al Partito Democratico, Renzi Franceschini, scontro sulle alleanze. Il mattino di Napoli, antimafia, il pasticcio è servito e poi si parla dello scontro nel PD, la minoranza non vota la relazione di Renzi. E poi, vedete, anche sul mattino si parla di questo brutto incidente, grave incidente accaduto al Giro d'Italia femminile, il dramma di Claudia, la Cretti cade in discesa a Benevento. è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, la Gazzetta del Mezzogiorno, duello Franceschini-Renzi, il leader non molla sul diritto di cittadinanza a chi nasce in Italia, e poi corrotti stalker terroristi ben espropriati come per i boss mafiosi. E poi anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno leggiamo il titolo riguardante l'incidente accaduto a Claudia Cretti nel Giro d'Italia donne che si sta disputando proprio in questi giorni. Lasciamo con la Gazzetta del Mezzogiorno le prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. A questo punto possiamo tornare, come vi dicevo, a dare insieme uno sguardo ai quotidiani di casa nostra, andando a vedere le pagine interne dei giornali per vedere quali sono gli argomenti trattati all'interno. Iniziamo e ripartiamo dal centro. Meditate gente, comitato olimpico, mette lo yoga alla porta ma salva la ruzzola. Una delibera del CONI ha tolto lo status di associazione sportiva alla disciplina praticata da un milione e mezzo di italiani lasciando al lancio del formaggio. E poi la regione stanzia 500 mila euro per lo sport. L'assessore Paolucci dice c'è la necessità di venire incontro alle difficoltà crescenti del settore. E poi la protesta, mini basket penalizzato, società in rivolta e poi in Abruzzo la decisione, queste decisioni che riguardano lo yoga, la ruzzola e altre discipline sportive, divide i praticanti. E poi si è parlato soprattutto di sport ieri all'Aquila con la visita nella nostra regione del presidente nazionale del CONI Giovanni Malagò che è stato all'Aquila ma ha portato un saluto anche alla manifestazione all'inizio a Teramo della Coppa Interamina. Noi andiamo a vedere il servizio proprio per vedere come è andata questa visita del presidente del CONI nella nostra regione. E l'iniziativa di oggi che altro non è che il censimento e la mappatura di quella che è la realtà dell'impiantistica attuale in questa regione e anche questo censimento viene da una risorsa regionale appunto la legge 20. Io credo che sia, si coniughi perfettamente tra la necessità di programmare 30 milioni e di avere una mappa futura per sapere dove programmare e come programmare. Adesso finalmente abbiamo aggredito l'argomento grazie anche al bando del Fondo Sport e Periferie, tutto territorio nazionale nel giro di un anno, molte regioni hanno già tagliato questo traguardo, completeranno questo strumento che apparentemente sembra banale ma è la base di tutto, è indispensabile. Però direi che oggi nella massima parte di tutto il territorio, l'abruzzo su questo, c'è più da capire cosa veramente serve e poi soprattutto che credo sia oggetto di dibattito mettere in condizioni persone capaci di gestire l'attuale. Noi facciamo queste le parole del presidente del CONI Giovanni Malagò, abbiamo ascoltato anche l'assessore regionale allo sport Silvio Paolucci. Siamo alle pagine ancora della nostra regione dal centro, Fondovalle Sangro, aperte le buste, 11 imprese in gara, entro 45 giorni in nome della società giudicataria per il completamento dell'infrastruttura, stanziati 190 milioni di euro, apertura al traffico nel 2022 e poi flash mob di protesta in piazza dopo il caso Ombrelline. Ieri c'è stata questa manifestazione, vedete la foto, in piazza del mercato Piazza Muzzi a Pescara. E poi in basso, confronto sulla crisi del centro-sinistra, oggi a Popoli ci sarà un incontro che è stato organizzato dal deputato del Partito Democratico, Antonio Castricone. Castricone. Andiamo avanti per arrivare alle pagine delle cronache provinciali e partiamo da Pescara dove a tenere Banco, Banco scusate, è la vicenda degli sgomberi a Rancitelli, in particolare in via Lago di Borgiano. Scoppia la protesta degli sfollati sistemati tra rifiuti e scarafaggi. Leggiamo qui dal centro due famiglie alloggiate nella ex circoscrizione di Viale Bovio, trasformata in un dormitorio pubblico, cui mancano persino le lenzuora, solo in serata, il trasferimento temporaneo all'hotel Holiday. E poi, vedete, non abbiamo più casa, chissà che fine faremo. La rabbia, la preoccupazione, la disperazione di alcuni di questi inquilini e delle case di Via Lago di Borgiano. E poi il comune, vedete in basso, chiede lo stato di emergenza, Alessandrini dice trovata una sistemazione provvisoria per tutti gli inquilini di Via Lago di Borgiano. Situazione limite anche in altri alloggi, Ater, dicono alcuni esponenti politici. Ma noi andiamo per ordine, andiamo a vedere il primo servizio su questa vicenda, in cui andiamo ad ascoltare alcune testimonianze dei residenti nelle palazzine sgomberate. Signora, lei abita in una delle palazzine di Via Lago di Borgiano che dovranno essere sgomberate in queste ore. Vi hanno detto dove andrete, sapete già dove... Allora, nella giornata di ieri abbiamo avuto questa comunicazione, quindi è stato tutto un corri corri a cercare di prenderci le nostre cose, quelle più indispensabili. Io alla mezzanotte sono riuscita ad avere una stanza d'albergo all'Holiday, ma molte persone non sono riuscite ancora a trovare una sistemazione, quindi molti sono rimasti qui. E comunque ci devono dare il tempo di scasare, di organizzarci e di dirci anche dove portare le nostre cose, perché molti di noi non hanno possibilità di appoggiarsi a parenti o amici. Voi ovviamente siete preoccupati anche perché dovete andare via, dovete lasciare subito la casa. Lì sì, ma no, già l'ha lasciata la casa perché è stata costretta a lasciare la casa, ma non sa dove andare Lago Giano. Prima gli hanno fatto tante promesse, hanno fatto ieri il sindaco e il vice sindaco, ma stamattina tutte queste promesse non si vede. Alloggi non ci sono, hotel non ci sono e intanto loro sono andati fuori. Dove vanno a dormire con i bambini piccoli non si sa. Allora hanno detto da amici o da parenti, ma da amici e parenti chi? Chi ha la possibilità, chi non ce l'ha la possibilità, che fa? Già sono vent'anni che hanno detto, hanno accertato che forse c'è qualcosa da fare, qualche lavoro. Adesso di punto in bianco devo riuscire fuori, dopo vent'anni. Non so cosa fare, non lo so. Io i mobili ancora li tolgo perché non so dove metterli, ho preso le cose più importanti. Ho un bambino minorenne di tre anni e noi praticamente abbiamo ancora i mobili in casa, i vestiti sono ancora in casa, non so dove andare. O io ho dormito in macchina e mio figlio è da mia mamma. Mia mamma non ha lo spazio, sono già cinque persone. Mi dicono loro dove devono andare. Non mi hanno trovato un albergo e non mi hanno trovato nulla. Le case non ce le vogliono dare perché siamo di rancitelli in affitto. Ditemi voi, io pagavo un minimo di affitto. Non posso permettermi un affitto di 600 euro. Che cosa devo fare per andare sotto i ponti? Chiedo a loro di darmi una risposta, semplicemente. Noi ci siamo lamentati molte volte perché personalmente io sentivo scriccoli lì tutti i giorni, la casa può scriccolare oggi, domani, non tutti i giorni. Mi hanno detto stai tranquilla che è un assestamento. Ok, le crepe si stanno continuando ad allargare, penso che adesso è arrivata la fine. Cioè l'Ater ci diceva state tranquilli, però dopo hanno mandato a fare dei lavori. Cioè non è a dire che siamo poche famiglie, tutta questa gente dove va? Ci sono tanti bambini piccoli in queste palazze. Tanti bambini piccoli, gente che fa la dialisi, gente malata, dove vanno? Io parlo per me ma parlo anche per loro perché sono persone anziane, da sole, dove vanno? Ditemi voi, io ho un papà che è invalido. Una settimana fa ha preso un ictus, lui sta al 16, palazzo più basso, che è quando si chiudono i palazzi loro scendono giù pure loro. Ditemi voi come faccio io con papà pure? Siamo proprio sotterrati, senza dignità, senza casa, senza nulla. Non abbiamo più nulla, ci hanno tolto tutto. E loro dormono tranquilli, invece noi siamo in macchina, chi nelle tende, chi... Non abbiamo nulla, più nulla, non c'è rimasto. Queste le testimonianze anche drammatiche di queste persone che si sono ritrovate senza casa nel giro di poche ore. Torniamo ancora a parlare di questa vicenda, le reazioni del mondo politico dopo lo sgombero delle 84 famiglie. Subito la nomina di un commissario straordinario per gestire questa emergenza, lo chiede il gruppo consigliare di Pescara in testa. In basso parla invece l'esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che dice che sono anni che denunciamo condizioni di degrado, ma la Regione non interviene. Noi andiamo ad ascoltare nel prossimo servizio proprio il consigliere regionale pentastellato Domenico Pettinari e anche l'assessore comunale alle politiche sociali del Comune di Pescara, che sta gestendo con la Regione questa situazione davvero difficile, Antonella Allegrino. Pettinari, siamo in via Lago di Borgiano, dove la situazione è veramente difficile, anzi drammatica, tante famiglie, tante persone che non sanno dove andare a dormire. E' una vergogna, noi siamo dieci anni che combattiamo chiedendo stanziamenti di risorse pubbliche per la manutenzione e la ristrutturazione di questi palazzi. Da quando sono entrati in Regione, l'amministrazione regionale a guida PD ha messo zero euro in bilancio, non ci sono i soldi e questa è la conseguenza, se non si mettono soldi per manutenere i palazzi, i palazzi arrivano a un pericolo anche per la pubblica incolumità. Oggi che cosa dobbiamo fare? Uno, che è il Presidente di Regione, che è il capo dell'amministrazione, perché questi sono palazzi regionali delle Ader, deve stanziare immediatamente risorse. Ma nell'immediato bisogna trovare degli appartamenti sfitti e cenettando di invenduto da parte degli costruttori e fare subito una convenzione con l'Associazione Costruttori e trasferire queste persone lì. Perché tanti di loro questa notte hanno dormito in macchina, in alloggi di fortuna, alcuni sono stati dai parenti ammassati dentro a uno scandinato, a un sottotetto. Non è civile, non è da paese civile. Abbiamo iniziato immediatamente, nel momento in cui ci siamo resi conto l'altro pomeriggio che ci sarebbe stata un'emergenza, abbiamo messo mano a tutte le attività necessarie e indispensabili. Innanzitutto è stato aperto il COC, il centro operativo comunale, che sta portando avanti tutti i contatti per poter andare incontro ad attività di sistemazione in termini emergenziali in questi giorni. Sono state già trovate collocazioni per 69 degli abitanti e questa mattina, in questa giornata, si conta di trovare sistemazione per gli altri. Tutte le iniziative sono concentrate e finalizzate proprio a dare tranquillità alle persone che sono state sgomberate dai tre immobili. Avete reperito anche delle palestre comunali, almeno per questi primissimi giorni? Stiamo lavorando anche per questo, in maniera proprio da dare risposta alla possibilità di dormire, ma stiamo cercando altrettanto sistemazioni alberghiere, che ripeto per alcuni è già in corso ed è già avvenuta. Seguiremo anche nella giornata di oggi la situazione, la vicenda di queste famiglie sgomberate da Via Lago di Borgiano. Restiamo sempre alle pagine del centro su Pescara. Si parla del femminicidio, della morte di Jennifer Sterlecchini. La nonna, chiedo giustizia per Jennifer, accolte le richieste delle parti civili. Rito abbreviato per Davide Troilo, l'imputato contestato all'uscita del tribunale. E poi in basso si parla di taglia sociale, sindacati pronti a protestare a Pescara. Saltiamo l'inserto, l'aquilone, per arrivare ancora alle pagine della cronaca di Pescara. Operazione dei carabinieri ai colli, controlli sugli insospettabili, il sequestro di oltre 12 chili di stupefacenti in casa di un 29enne che è stato arrestato. Andiamo a vedere il servizio. Brillante operazione dei carabinieri della compagnia di Pescara. Avete ritrovato in casa di un 29enne incensurato 13 chili di droga. Come è nata questa indagine? Il sequestro nasce da una perquisizione che abbiamo effettuato ieri pomeriggio a coronamento di un'attività investigativa, diciamo io, a modo di finirla di vecchio stampo. Cioè i militari proiettati in mezzo alle piazze di spaccio, in mezzo alla gente, nei locali di aggregazione, nei posti dove maggiormente i giovani si concentrano e sono riusciti a individuare un 4-5 ragazzi che stiamo tuttora attenzionando, di buona famiglia, incensurati, che però hanno cominciato a prendere contatti con qualche esponente del mondo dello spaccio. Abbiamo fatto diversi servizi di osservazione, pedinamento, di controllo e dopo circa due settimane che abbiamo attenzionato in particolare la casa di questo ragazzo e abbiamo notato questo via vai continuo di giovani, ci è venuto chiaramente il forte sospetto che ci fosse un movimento all'interno dell'abitazione, intuizione che è stata premiata dal brillante ritrovamento e quindi abbiamo confermato tutti i nostri sforzi. Oltre all'ascisce e alla marijuana avete rinvenuto una ventina di grammi di una sostanza molto simile all'extasi, molto pericolosa per la salute umana. Sì, sono 20 grammi di MDMA, che è una sostanza sintetica, di quelle che definiamo sintetica, al contrario della marijuana, dell'hashish e di altre sostanze di derivazione vegetale, che proprio per la loro caratteristica sono particolarmente lesive dal punto di vista tossicologico, quindi provocano dei danni notevolmente superiori. Ora la quantità era sicuramente minore e è probabile che fosse magari soltanto un campione di prova per eventuali e probabili spedizioni future. Indagini che non sono concluse perché ora state cercando di capire da dove provenisse questa droga e a quale mercato fosse destinata. Esattamente, le indagini assolutamente continueranno, anche perché il confezionamento della stupefacente è molto particolare. Ci sono riportate sulle confezioni dei nomi che vengono associati probabilmente alla qualità della sostanza rinvenuta e quindi hanno un potere anche di tossicologico diverso, ci saranno diverse gradazioni di THC e dobbiamo capire intanto da dove arriva, perché è una varietà molto diversa e secondo se fosse destinata al mercato pescarese o se fosse semplicemente in transito verso altri posti. Questo è il servizio sull'operazione dei carabinieri di Pescara. Noi ci fermiamo per qualche istante e andiamo a vedere come sempre le previsioni del tempo con il nostro Luca Mennella per le prossime ore e poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Torniamo in studio, seconda parte di mattino 6, eravamo e restiamo alle pagine del centro. Siamo a Montesilvano, il dramma dei senegalesi senza casa e lavoro, nessuno ci aiuta, parla il portavoce della comunità sfrattata un mese fa da Via Riosto, un gruppo di sfollati è tornato a dormire in spiaggia. Poi in basso Montesilvanesità, la rassegna dei ricordi, al Via da Domani a Palazzo Baldoni, il programma della mostra fotografica a cura di Sergio Agostinone. Spaccata al Comprooro, ladri in fuga, siamo a San Giovanni Teatino, i carabinieri intercettano tre malviventi e recuperano il bottino, l'allarme lanciato da un cittadino. E poi a Francavilla, cimitero prima grana sulle concessioni, la gestione privata della De Francesco invita i cittadini a ridefinire le pratiche sui loculi. In basso sempre Francavilla, Via Montesirente, ultimata la seconda oasi di Fido e poi in 64 per le sfide di biliardo al Circolo Miramare. Siamo alla pagina della Val Pescara e dell'area Vestina, dieci disabili gravi lasciati senza terapie. Siamo appena, i tagli all'Istituto Paolo VI colpiscono anche la sede Vestina. la sorella di un assistito dice che non si lasciano sole le famiglie. E poi Capo Pescara sarà accessibile a tutti. La direttrice della riserva naturale, Pia Di Felice, dice ecco come useremo i fondi per 300 mila euro. Siamo in questo caso a Popoli. Tornando a Penne, l'Acquatica fa incetta di titoli con Graziosi e Bottini. Poi Moscufo, fondi dalla Regione per riqualificare Via Castello. Lasciamo la cronaca di Pescara e Provincia. Siamo alla pagina di Chieti. Giallo all'Università, carte del CUS scoperte nell'armadio murato, abbattuta una parete in cartongesso creata nella stanza delle riunioni. Il Rettore chiama la finanza, faldoni presi in consegna, rapporto in procura. E la Cassazione reintegra il Direttore Generale del Vecchio al suo posto di lavoro. In basso, a Ripatiatina, ladri nelle scuole, rubati 12 computer. Ride nella notte alle elementari e medie. Il sindaco Ignazio Rucci chiede più sorveglianze. Poi Castelfrentano, pestato a sangue nel bar. Tre arresti, lo aggredirono con la mazza da baseball, incastrati dalle telecamere. Siamo all'Aquila. Squadra al debutto. Biondi, Vara, la nuova giunta. Forza Italia piglia tutto e quattro donne. Nell'esecutivo entra anche la di Stefano. E poi in basso andiamo in Valle Peligna. Scanno, ferito con un fucile ad aria compressa. Sconosciuti sparano ad un pensionato di cerchio. L'uomo è stato poi ricoverato in ospedale e operato. Ovviamente ci sono le indagini, in questo caso, dei carabinieri per chiarire questo episodio. Siamo alla pagina di Teramo. Donne nel mirino stalking impennata di denunce dopo l'omicidio di Ester Pasqualoni. Effetto prodotto dal caso dell'oncologa uccisa dal suo persecutore davanti all'ospedale di Santomero. Il questore De Simone dice alcune segnalazioni si rivelano infondate, ma la nostra attenzione è sempre alta. E da Teramo e comunque dalla Val Vibrata, in questo caso per la vicenda dell'oncologa dell'ospedale di Santomero, ci spostiamo a Giulianova, dove salta il presidio di protesta. Il Comune non ha autorizzato il gazebo del comitato che si batte per la difesa dell'ospedale. Lasciamo le pagine di cronaca del centro. Ci spostiamo sul messaggero. Anche in questo caso andiamo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo. Poi, come sempre, ci concentreremo sul quotidiano. La città di Teramo e nell'ultima parte parleremo di sport, perché ci sono ovviamente importanti notizie di mercato che riguardano le formazioni di calcio, pescare a Teramo, ma non solo, perché è mercato che ormai è entrato nel vivo. E dunque ci sono le operazioni di mercato che servono per allestire gli organici in vista della prossima stagione. Tra l'altro la prossima settimana partirà anche il ritiro del Pescara di Zeeman a Rivisondoli. Ma parliamo ancora di cronaca, di politica, di attualità dalle pagine del messaggero. Magistrati onorari, si annuncia la paralisi anche in Abruzzo. Le prime indiscrezioni sul secondo decreto attuativo della legge delega 56 del 2016, che esce tra qualche giorno, fanno pensare al blef. E poi i giudici di pace di nuovo in sciopero. La riforma che sta arrivando mette in pericolo, dicono la macchina giudiziaria. E poi in basso si parla di un articolo del professor Stefano Cianciotta che parla della istituzione di una zona economica speciale che farebbe aumentare l'attrattività della regione. Poi, bimillenario ovidiano, il Movimento 5 Stelle si rivolge alla Corte dei Conti. Ieri vi avevamo a tal proposito fatto vedere un servizio sulla conferenza stampa tenutasi su questa vicenda nel corso del nostro telegiornale. Siamo a Pescara, svollati, chiesto lo stato di emergenza, istanza di Alessandrini alla regione, in prima disponibilità anche al villaggio mediterraneo di Chieti. Abbiamo ascoltato, nei due servizi che vi abbiamo proposto prima, sia alcuni residenti che pettinari del Movimento 5 Stelle e l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Antonella Allegrino. E poi il flash mob di ieri a Pescara sulla vicenda delle ombrelline. Vergogna, l'ombrello te lo tieni tu. Questi i cori che sono stati, per così dire, lanciati ieri nel corso di questo flash mob che si è tenuto a Pescara. E poi Jennifer, il Comune parte civile. Danno d'immagine per il femminicidio. L'amministrazione si è costituita, corregione e ananche, contro Davide Troilo. Ammesso il rito abbreviato, è disposta a una perizia psichiatrica per l'imputato. Cori, rabbia e striscioni degli amici della vittima. E poi oncologia in ospedale, a Dricesta migliora il day hospital. E poi blizze dei carabinieri ai colli, nascondeva 13 kg di droga in casa arrestato. E poi pagavamo affitti in nero, oggi nessuno ci dà una casa, si tina la regione esposto dei senegalesi dopo lo sfratto dal ghetto di Montesilvano. Ieri c'è stata questa conferenza stampa degli sfrattati di Via Riosto, dei loro rappresentanti e delle portavoce della comunità senegalese. Possiamo andare a vedere il servizio che è stato curato da Andrea Costantini. Continua a far discutere la vicenda degli sgomberi di Via Riosto a Montesilvano. Ad oltre un mese dall'azione delle forze dell'ordine che hanno dato applicazione all'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Maragno. I rappresentanti della comunità africana che da allora hanno perso la casa ora puntano il dito nei confronti dell'amministrazione comunale perché una sistemazione alternativa a loro promessa non è stata ancora data ed è anche complesso trovare un tetto tramite agenzie immobiliari o privati. Al loro fianco si è schierata anche l'unione dei sindacati di base. Noi dell'USB abbiamo avuto diversi incontri con il comune di Montesilvano e questo incontro non ha dato nessun frutto. Noi chiediamo che siano trovato delle sistemazioni a questi che hanno il contratto al di là dei ragazzi che sono stati collegati nei diversi alberghi ma fino ad ora non abbiamo avuto nessun risultato concreto della parte della comune di Montesilvano. Il sindaco di Montesilvano ci ha fatto delle promesse ogni volta hanno detto che stanno lavorando sul fatto ma noi non possiamo dibutare adesso perché ultimamente abbiamo visto che il comune di Montesilvano è andato anche un po' più a destra perché vediamo delle manifestazioni dove anche partecipano chi ha carica insidizionale e il successo è questa domenica. Ecco, dove vivete? Anche lei personalmente dove vive in questo momento? Io vivo da un amico, diciamo, che mi ha aiutato a vivere con mia moglie però in condizioni veramente gravi. E altre persone della comunità dove sono? Altre persone vivono alla spiaggia e sono stati sgombrati una settimana fa alcuni li hanno portati all'albergo di un luogo di Pascara però per 10 giorni li hanno cacciati di nuovo adesso dormono sul ponte di Montesilvano dal mare. Ecco, oltre alle richieste che avete fatto al comune di Montesilvano voi vi state muovendo anche autonomamente cercando una sistemazione ma ci sono ulteriori problemi? Dove andiamo noi per cercare una casa? Una settimana dopo loro dicono che non si può dare la casa perché abitava a Via Riosso questa è una cosa, diciamo, non lo so, di rassismo non lo so cosa ti devo dire. Chi però ha detto? Ma gli agenci immobiliari dicono sempre che quando abitano a Via Riosso non si possono dare una casa non lo so perché. E su questa vicenda ha parlato anche l'assessore del comune di Montesilvano Walter Cozzi che dice fatto di tutto per aiutarli serve correttezza il sindacato dice temiamo violenze di stampo razzista restando a Montesilvano ma cambiando argomento si parla dell'arrivo del patrono delle reliquie in città di Sant'Antonio andiamo avanti Genesis Amarcord con Steve Hackett il celebre chitarrista stasera sul palco del teatro d'annunzio e poi notte dei saldi e sfilate di Miss accendono l'estate a Montesilvano siamo all'Aquila a Biondi Vara alla giunta Green la di Stefano entra da esterno la commercialista avrà un ruolo tecnico sebbene sia molto vicino a Forza Italia in questo modo gli azzurri vanno formalmente due posti quelli di Liris e di Cosimo e Cialente attacca qualcuno in questa intervista rilasciata al messaggero dice qualcuno temeva un di Benedetto troppo forte e poi campus universitario abusivo in 5 sotto processo e poi l'indagine lavori pretesi e in nero a processo finisce nei guai il presidente del CUS l'ortopedico Francesco Bizzarri da come leggiamo in questo articolo del messaggero ancora l'Aquila un festival per i cittadini di serial via il secondo evento della partecipazione che ha aperto le porte alla città ieri pomeriggio all'auditorium del Castello e poi Malagò parte da qui dice il presidente nazionale del CONI la lunga corsa verso Tokyo 2020 abbiamo visto prima il servizio e poi pagina di Avezzano sul Mona ladrin tribunale allarme sicurezza episodio inquietante la scorsa notte trovata finestra sfondata e vetro spaccato resta il giallo cosa cercavano i malviventi e poi le indagini della polizia in basso sul Mona per aio ferito alla Magneti Marelli le accuse della CGL pagina di Chieti del messaggero Asle ecco il piano da 20 milioni per rendere sicuro il policlinico l'azienda chiede i soldi alla regione per intervenire sui padiglioni D, E ed F sono i corpi di fabbrica che resterebbero in piedi anche con il nuovo ospedale poi la Università Gabriele D'Annunzio la Cassazione riapre al direttore generale del vecchio e poi la vertenza con i lavoratori della Daico in comune l'incontro con il sindaco di Chieti Umberto di Primio e poi l'incidente avvenuto qualche giorno fa perché è morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma l'anziano di 84 anni che era rimasto ferito in modo grave mentre bruciava le estoppio e morto al centro grandi ostionati dell'ospedale Sant'Eugenio e poi spaccata col tombino colpo sventato dai carabinieri e gioielli recuperati è accaduto a San Giovanni Teatino e poi ci spostiamo alla pagina di Lanciano Vasto e Ortona partiamo da Ortona sosta al mare in mezzo alla discarica sporcizia rifiuti ingombranti e lavori bloccati al parcheggio la cartolina del degrado per i frequentatori dell'Ido Saraceni il neosindaco Leo Castiglione pronto a correre ai ripari mentre fioccano le proteste e persino segnalazioni di topi a Lanciano ritorsione violenta dopo la rissa che c'era stata qualche giorno fa ci sono stati tre arresti mentre a San Salvo anche gli albergatori dicono no ai migranti sempre a San Salvo via al cartellone estivo ma è guerra dei decibel mentre a Lanciano sulla Fondo Valle Sangro sono undici le ditte in gara e poi Fossa Cesia Fossa Cesia la spiaggia che rispetta i disabili mentre per quanto riguarda gli scioperi alla Sevel per gli straordinari sinistra italiana si schiera al fianco della FIOM siamo alla pagina di Teramo stalking denunce in crescita ma non usatele come vendetta il questore fa il punto della situazione dopo gli omicidi delle scorse settimane i provvedimenti non si adottano al cuor leggero o sotto la spinta di tradimenti noi andiamo a vedere proprio su questa vicenda il servizio che è stato curato da Tania Bonnici Castelli la questura di Teramo annuncia l'arrivo di rinforzi dal Ministero per presidiare a tappeto il territorio di Alba Adriatica Martinsicuro e Villa Rosa durante il periodo estivo il nuovo servizio di controllo e sorveglianza da parte delle forze dell'ordine è stato attivato già dal primo luglio insieme all'apertura di un posto di polizia ubicato nei locali dei vigili urbani di Alba Adriatica la zona nord del Teramano si conferma dunque il territorio più a rischio della provincia dove si concentra il maggior numero di reati per furto spaccio e prostituzione senza parlare degli ultimi due delitti avvenuti lo scorso mese di giugno l'omicidio del ragazzo Rom e dell'oncologa Esther Pasqualoni siamo partiti come l'anno scorso con l'apertura di un presidio di polizia chiaramente temporaneo quest'anno nella zona di Alba Adriatica ci siamo spostati perché abbiamo visto che Alba Adriatica rispetto all'altra località della zona nord è quello che ha avuto i più eventi delittuosi e quindi dal primo di luglio siamo presenti in quella zona attraverso proprio un presidio più sostanzioso di uomini e di mezzi ma limitato all'estate? sì questo è un discorso che è limitato all'estate noi già comunque presidiavamo anche durante gli altri periodi dell'anno questa zona che è particolarmente a rischio per l'alta presenza di pregiudicati ma visto il notevole afflusso anche turistico dal primo luglio appunto abbiamo stabilito un servizio fisso di volante quindi ci saranno delle macchine dedicate esclusivamente a quella zona che faranno poi capo a dei locali dove noi ci appoggiamo che ci sono stati gentilmente concessi dal sindaco di Alba Adriatica a cui faranno capo appunto queste macchine nel caso dovessero redigere degli atti o delle attività che vengono svolte la situazione non è di particolare gravità però visto che c'è questo notevole afflusso di persone e visto anche i recetti e i episodi criminosi che si sono verificati in quella zona noi già preventivamente avevamo predisposto questo piano che continueremo comunque a predisporre ogni estate le misure di controllo e prevenzione che saranno messe in atto dalla questura per il periodo estivo e che si concentreranno in particolare sui comuni di Alba Adriatica Martinsicuro e Villarosa sono state concertate da tempo in sinergia con il prefetto di Teramo Graziella Patrizzi Queste le parole del questore di Teramo Enrico De Simone ovviamente discorso legato non solo a quanto accaduto a Sant'Omero ma anche al maggiore controllo del territorio come abbiamo ascoltato anche dalle parole del questore controllo del territorio soprattutto nelle zone costiere della provincia di Teramo dove in estate c'è un aumento notevole di residenti con tanti villeggianti che scelgono proprio le spiagge di Alba Adriatica Tortoreto per passare le loro vacanze dunque controlli come abbiamo ascoltato dal questore intensificati in questi mesi estivi noi ci spostiamo alla pagina proprio del litorale varata la nuova giunta comunale siamo a Giulianova Mastromauro il sindaco di Giulianova si lascia solo il dubbio per il suo assessorato Coreovanni i candidati possibile conferma per la Guerrucci e poi il PD sceglie Fabio e Fabrice Ruffini oltre a Cristina Canzanese ma ora al primo posto va messa la riorganizzazione degli uffici e poi ancora Giulianova D'Ignazio recuperati i soldi destinati al porto e sempre per quanto riguarda Giulianova ma in questo caso parlando di cronaca i ladri tentano un furto ragazzini li mettono ragazzino li mette in fuga e poi in basso Roseto sui consigli di quartiere casa civica attacca il PD e poi ad Alba Adriatica scatta l'esproprio per la pista ciclabile Martinsicuro Vagnoni il neosindaco ha praticamente pronta la squadra di governo siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a leggere insieme prima di parlare di sport dobbiamo andare a leggere insieme le pagine del quotidiano la città anche in questo caso per dare uno sguardo in maniera approfondita ai fatti di Teramo e provincia avevamo visto proprio all'inizio di mattino 6 la prima pagina del giornale Oggi ne dico la ripartiamo da pagina 3 cronaca regionale già trovato un tetto agli sfollati pescaresi si parla della vicenda degli sfollati di via Lago di Borgiano ma come abbiamo potuto vedere e ascoltare anche nel servizio ci sono polemiche e problemi e poi ambiente vedete a fondo pagina domenica pomeriggio la marcia di Assergi per l'acqua del Gran Sasso e poi l'Interamina World Cup Malagò in visita alla Copp abbiamo ascoltato prima il presidente nazionale del CONI e poi la buona sanità l'ospis un'eccellenza da valorizzare Anna Ferrante dirigente scolastica dei servizi educativi comunali lancia un appello per la struttura in basso ancora sanità a Silvi sospetto caso di tubercolosi scatta la profilassi si tratta di un uomo dell'Europa dell'Est che non è fortunatamente in pericolo di vita la Teramo Ambiente da il ben servito a Pierangelo Stirpe da super dirigente a Brocco nel giro di qualche mese licenziato uno dei pilastri della società partecipata da come leggiamo qui sul quotidiano la città e poi parliamo di università un campo estivo per i futuri imprenditori e poi politica scalone l'ex capogruppo torna a punzecchiare il commissario cittadino del PD e dice Mariani bugie su Dalberto Nuzzo l'uomo giusto per essere capitale della cultura la fondazione Tercas ha aderito con convinzione all'iniziativa lanciata dal comune e poi in basso verde pubblico piano della lenta fa l'elenco delle incompiute dell'amministrazione andiamo avanti pagina della provincia sicurezza l'attenzione si sposta lungo la costa abbiamo appena visto il servizio di Tania Bonnici Castelli con l'intervista al questore di Teramo Enrico De Simone e poi denunce per stalking in aumento dopo il caso di Esther Pasqualoni e anche di questa drammatica e tragica vicenda abbiamo parlato anche pochi minuti fa prima di pensare ai trenini salviamo i prati Renzo Di Sabatino il presidente della provincia di Teramo si dimostra il più realista sui progetti per collegare la Val Mavone alla Val Vomano e poi religione 6.000 fedeli al santuario di San Gabriele domani mattina l'appuntamento con la festa del Pellegrino e poi la cronaca con incendi e camion in fiamme giornata impegnativa quella di ieri per i vigili del fuoco nel Teramano e poi la regione danneggia alba adriatica la stagione iniziata ma non c'è traccia del ripascimento promesso parla Tonia Piccioni che dice abbiamo mandato molte sollecitazioni ma non è arrivato alcun riscontro ambiente raccolta di rifiuti notturna anche per Tortoreto e poi ad alba adriatica più di 200 ballerini in pista al piccolo chalet per Danzando sotto le stelle poi cronaca bambino investito al bivio di Corropoli e tre arresti per spaccio di droga rissa e rapina ad alba adriatica tra i democratici spunta il nome di Cerulli i rally i vertici del partito lavorano per convincere l'avvocato l'unico capace di mettere tutti d'accordo siamo a Giulianova e poi per l'ospedale di Giulianova la CGL chiede più confronto sulla riforma della sanità e poi una città di servizi e ristoranti al porto di Giulianova parla il consigliere regionale Giorgio D'Ignazio che incassa l'impegno del presidente della regione Luciano D'Alfonso anche per sbloccare i lavori strisce blu a Roseto i nuovi parcheggi spaccano in due la città pochi parchimetri e malfunzionanti i commercianti della nazionale penalizzati rispetto al lungomare ancora a Roseto il sindaco si fa sindacalista nella capitale di Girolamo va a Roma per manifestare con gli agricoltori e torna con i soldi per il campanile e poi ancora Roseto estate ancora scusate si parla di eventi estivi ma a Pineto cinque fiabe nel parco della pace per l'estate pinetese e sempre a Pineto atleti provenienti da tutta Italia pronti a sfidarsi tra le onde di Pineto perché è stata presentata ieri mattina la decima edizione della manifestazione sportiva che si svolgerà sabato prossimo pagina della cultura Castelbasso tra arte e musica di qualità il 23 luglio l'inaugurazione del programma estivo di mostre ed eventi nell'antico Borgo Teramano arriviamo allo sport per parlare del Teramo Teramo ecco chi non farà parte del progetto sono 13 gli elementi che non dovrebbero essere confermati l'anno prossimo un colpo di spugna al recente passato dunque sul mercato ci sarà un vero e proprio Repulisti una vera e propria rivoluzione da parte del presidente Campitelli del direttore sportivo Giorgio Repetto e del neodirettore generale Enrico Capaldi e siamo alle pagine dello sport del centro parliamo di serie B del mercato del Pescara parla il presidente Biancazzurro Daniele Sebastiani che dice con Gans per ora siamo a posto il presidente prima di operare altri innesti bisogna sfoltire la rosa sfuma Pessina il centrocampista sceglie lo Spezia per la difesa spunta Bellusci e poi la campagna abbonamenti la vendita libera partirà il 31 luglio il 14 luglio ci sarà invece la conferenza stampa di presentazione proprio della nuova campagna abbonamenti settore giovanile Ruscitti guiderà l'Under 17 e poi si pensa alla promozione di Dulisse e poi in Canada il Delfino è sempre più famoso partnership con il Saniax gli emissari pescaresi accolti con affetto dalla comunità abruzzese di Toronto tantissimi gli abruzzesi che vivono e lavorano in Canada lasciamo questa pagina dello sport del centro per andare a vedere le pagine di sport del messaggero perché siamo in chiusura le priorità di Zeman portiere terzino nelle prossime ore l'ex salernitano Alfred Gomis primo nella lista del tecnico che aspetta l'ok di Pessina ma abbiamo visto dal centro che Pessina è passato allo Spezia e poi adesso Memushai diventa un caso da capitano a esubero di lusso venerdì prossimo abbiamo visto anche dal centro ci sarà la presentazione della campagna abbonamenti per il nuovo campionato e poi il trofeo Matteotti compie 70 anni Ricci lo abbandona l'organizzatore annuncia l'addio le istituzioni sono indifferenti così è impossibile andare avanti abbiamo avevamo ascoltato il patron del Matteotti Renato Ricci ieri nel corso dei nostri TG e si è parlato del Matteotti ovviamente anche ieri sera nella trasmissione velo curata da Jacopo Forcella e dal nostro Luciano Rabbottini ancora sport calcio a 5 acqua e sapone doppio colpo arrivano Bertoni e Coco Wellington poi invece per quanto riguarda il Pescara girone di ferro in Europa per la Futsal Cup sono stati estratti resi noti proprio i gironi si gioca Minsk contro i rivali russi Kazaki e della Bielorussia e dunque un girone di ferro per la formazione di Fulvio Colini e del presidente Danilo Giannascoli e poi Teramo è arrivata la firma di Amadio parliamo del Teramo calcio con il giocatore di origine romana che si lega nuovamente alla società Biancorossa poi il calcio di Serie D l'Avezzano conferma Persia via la campagna abbonamenti per quanto riguarda il basket Serie B si muove l'amatori i primi colpi per il coach Raiola da Senigallia è stato prelevato il giovane playmaker Caverni mentre dal Piacenza arriva in bianco-rosso la guardia Leonzio in basso ancora basket in questo caso Serie A2 Roseto Sharks quattro proposte per diverse tipologie di sponsor e dunque si parla e si pensa anche a rinforzare la società e comunque ad avvicinare imprenditori alla formazione rosetana che il prossimo anno rappresenterà da sola l'Abruzzo nel secondo torneo nazionale tornando al calcio alla Serie D abbiamo visto che l'Avezzano ha confermato Persia avvasto un rinforzo in difesa per la formazione di Colavitto perché dall'Agropoli arriva a meglio siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani puntuale come sempre alle 8 io ringrazio per la regia Silvia Gentile ringrazio voi per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento con la prima edizione del nostro telegiornale come sempre oggi alle 14 grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata e buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti